Signori miei buonasera, è iniziata l'avventura di Daniele De Rossi come allenatore della Roma e inizia con una vittoria, inizia con tre punti, inizia anche con delle ovvie difficoltà specialmente nella seconda parte e nel finale di gara, ma inizia anche con ambizione con voglia di mettersi in gioco, di buttare dentro idee nuove, cambiare anche modulo se ce n'è bisogno i quinti che diventano terzini e se tu i quinti li metti terzini forse lo scempio che combinavano prima adesso in qualche maniera viene anche ridotto, dico, chiedo, no, provo una squadra che nel primo tempo mi ha anche coinvolto, calcisticamente parlando mi ha fatto anche divertire, gioire ho visto delle giocate anche di livello e non per forza partite e impartite da Paolo Di Bala che nei due gol ci entra una mazza, eppure abbiamo visto due azioni e dei gesti tecnici di livello ripeto, non tutto fantasmagorico, prima c'era il male assoluto, adesso c'è il bene e immane che se la verità è come qualsiasi cosa sta sempre nel mezzo, ma io sono affascinato dalla Roma di Daniele De Rossi perlomeno voglio rivederla per valutare le prossime uscite, senza ombra di dubbio bene, bene, bene così, ne parliamo, ne parliamo, parliamo di questo Roma Verona 2 a 1 prima come al solito vi invito a lasciare un like, vi invito a condividere il video se lo state guardando su Facebook vi invito a fare un po' quello che come al solito vi aggrada e vi invito anche a passare su socios.com per chi non l'avesse ancora fatto, scaricate l'applicazione che trovate in descrizione perché vi dà l'opportunità di godervi innanzitutto fantasmagoriche esperienze come spesso diciamo, l'accesso al parcheggio, i biglietti VIP premium oppure i tour personalizzati, ci sono una valangata di opportunità grazie anche al potere dei fan token, ma anche sondaggi, tutto e di più basta selezionare la vostra squadra del cuore, ricordiamo che stiamo parlando del socios.com partner ufficiale della serie A, per cui selezionate la vostra squadra e avvicinatevi il più possibile a essa e al primo tempo ho visto anche troppo ho visto talmente troppo quasi da non crederci perché davvero la Roma nel primo tempo è stata un'altra in tutto e per tutto sia nella disposizione tattica con questo 4-3-2-1 che secondo me andrà appunto nel tempo poi ci vuole sempre tempo per applicare i cambiamenti però nel tempo secondo me andrà a beneficio di alcuni giocatori che io ritengo molto molto interessanti e che magari per un motivo o per l'altro non si erano secondo me inseriti o comunque non erano valorizzati dalla scorsa guida tecnica parlo uno su tutti secondo me di Pellegrini Pellegrini oggi ha tirato fuori un bel gol anche oggi partita magari fatta di alti e bassi non la partita perfetta per me la partita perfetta oggi la fa Bob mamma mia un giocatore che porta una vitalità incredibile in mezzo al campo e che dà veramente una grande mano a tutti i compagni è una roba clamorosa però in questo modo vedo un Pellegrini che può inserirsi vedo un Pellegrini che può toccare più magari può essere più dentro vedo soprattutto una squadra che con Karsdorp per esempio che magari non ha giocato la miglior partita ma quante volte ti ha fatto tutta quella fascia e andava a chiudere l'azione nel secondo tempo ricordo Escheragui per Pellegrini che fa il movimento palla e mezzo non precisissima Karsdorp che va a chiudere vedo tante tante possibilità e soprattutto vedo la possibilità di poter in qualche modo non dico fare a meno di Dybala perché è ovvio che Dybala è un giocatore fortissimo i giocatori forti fanno la differenza e quindi c'è poco da fare averlo o non averlo cambia non si discute ma perlomeno avere delle soluzioni alternative alle principali e questa Roma secondo me se le costruirà nel tempo e oggi già ci ha fatto vedere qualcosa ripeto nel primo tempo palleggio manovra squadra anche più ampia corta ho visto delle belle triangolazioni ho visto una squadra che che voleva uscire palla a piede primo tempo della Roma veramente secondo me di buona fattura assolutamente due gol bellissimi secondo me ci mettono qualche anche demerito del Verona che con la difesa troppo alta è riuscita in qualche modo ad agevolare tutto ma ma buona buonissima Roma nel primo tempo poi sono emerse delle difficoltà e nelle difficoltà la squadra in qualche modo si è un po' anche impanicata e non è riuscito più a fare quello che magari De Rossi si augurava dal punto di vista prettamente tattico si è schiacciata ha avuto delle difficoltà proprio nell'uscire poi e ha rischiato nel secondo tempo anche rischiato ci sono state tante situazioni per il Verona c'è stato il gol annullato che me l'hanno fatto vedere mezza volta e basta e quindi non ho capito l'episodio in sé c'è stato il rigore sbagliato da Juric c'è stato il gol che anche questo me l'hanno fatto vedere mezza volta non ho capito il blocco su Bove che mi sembrava esserci quindi non si sono capito un paio di cose si è capito invece che lui Patrizio ha delle difficoltà tra i pali perché sì vero forte il tiro di Folo Rouge bello anche fa un giro incredibile ma la palla era abbastanza comunque centrale la distanza c'era un portiere top quella palla onestamente te la prende e ci sono ripeto poi il Verona ha buttato dentro attaccanti Cruz ha buttato tante bocche di fuoco e quasi quasi il Verona poteva 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 pareggiarla però però cosa però a me a Verona a Verona in questo momento non è il Verona non è facile perché sul mercato ha perso giocatori importanti Faraoni Doig Gong l'altro Terracia e quindi in questo momento in questo momento il Verona ha anche poche alternative e poi non riesce a segnare sul calcio di rigore a quanto pare detto questo vediamo sono ripeto e ribadisco sono molto molto incuriosito dalla dalla Roma bis chiamiamola così dalla Roma di Daniele De Rossi secondo me ha idee ambiziosi c'è la volontà di fare senza dubbio un calcio diverso e mi affascina tutto ciò sono sono affascinato poi è inutile parlare del pubblico come al solito è l'uomo in più ci sono stati tributi per il passato per il corso per l'allenatore José Mourinho ci sono stati tributi per Daniele De Rossi a Roma ci sono sempre tante persone che si emozionano e emozionano senza ombra di dubbio fatemi sapere cosa ne pensate voi commentate se volete iscrivetevi al canale un grande abbraccio da Neschi A presto